Buongiorno, mi chiamo Battisti Maria, vengo da Mantova. Naturalmente mi stavo guardando intorno per i problemi che avevo dentali, i ponti caduti, i denti smangiati, proprio un brutto sorriso. Mi ha ispirato fiducia e ho provato a contattare. E da lì, ma proprio ero scettica, non pensavo di arrivare in fondo al percorso. E niente, ce l'ho fatta, sono arrivata in fondo al percorso. Non lo so, mi sono fidata dal dottor Palmas, dalle persone che lo circondavano, però mi è piaciuto, è stato molto positivo. E' funzionato tutto a perfezione, tutto l'ingranaggio è andato bene. Perciò sono soddisfatta, sono motivata e orgogliosa del lavoro che è stato fatto. Bravi. E sono felice di questo percorso e lo rifarei mille volte. Lo consiglio. Il sorriso è tutto, perché io lavoro nell'ambito scolastico, dove ci sono tanti bambini e mi dicono, guarda che ti mancava un dentino. Eh sì, è venuto Santa Polonia, mi è caduto il dente. Ci giocavo sopra, ma non era molto simpatico. Adesso sarà diverso. Mi diranno, hai i denti nuovi. Sì, tutto bene, tutto bene. Sono veramente soddisfatta. Grazie a tutti. Grazie, grazie mille. Grazie a tutti.